perfetto, ottimo go live aggiorna, aggiorna tanto ci sarà qualcuno che entra prima ancora che riusciamo a condividere il link sì sì succede sempre così eccolo qua, dal vivo, Mastermind for Italia dammi il link dove sei? copia, te lo giro su telegrammo telegrammo fatto condivido ok, anch'io infatti, Angelo Mastro Giacomo di Cubro tutti ci sono, tutti tutti, tutti sono arrivati siamo online bueno, vado con la musica vai ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast e guardate che cambio di look di di Riccardo di Riccardo che cambio di look perché è andato a fare un viaggio Riccardo è finito in Brasile dove fanno le operazioni strane quelle economiche quelle economiche lui doveva voleva diventare una donna e invece non ci è riuscito e l'hanno cambiato in Giulio quindi abbiamo un sosia di Giulio qui con noi ciao Giulio ciao Giulio tanto la storia la stanno già chi era nel gruppo grazie per l'ospitalità sì, Giulio è un ragazzo che frequenta il gruppo di Mastermind ford Italia oggi abbiamo fatto il sorteggione anzi, non il sorteggione abbiamo fatto il concorsone è stato il più veloce è stato il più veloce sì, sì lui era lì pronto secondo me lui sentiva qualcosa sull'aria è stato qualcosa l'ho visto non ti affare niente è grande salutiamo Marco Giacomo Marco Ricupero David Moscatelli Patrizia Rufo Francesco Febbe Bua Alex Francesco chi è? non lo conosco è nuovo Francesco ciao Francesco ah tra l'altro devo dirti una cosa Daniele casomai ne parleremo perché mi ha contattato in privato la persona quella che la scorsa volta aveva mandato la foto quella con la foglia che c'era il segno in mezzo dopo ne parleremo mi ha raccontato il perché cosa è successo interessante così sono curioso allora ok Giulio cosa hai fatto questa settimana? cosa ho fatto questa settimana? eh per migliorare la mia foto? no ah beh fotograficamente mi è arrivato un libro che ho comprato su Amazon ho comprato un libro della National Geographic che parla di ritratti c'è scritto corso completo nella fotografia di ritratto tratto un po' tutto dalla composizione alla posa alle luci tutto anche la postproduzione dopo qualcosina è molto interessante l'ho comprato perché il ritratto è qualcosa su cui sono totalmente negato però allo stesso tempo il tipo di genere fotografico che più amo e quindi è frustrante amare un genere e non saperlo fare quindi vedo di studiarlo un po' meglio non è per niente per niente facile ma è già un buon passo cioè iniziare con con lo studio è già una bella roba dopo c'era una cosa discutevo spesso con delle anzi mi sembra che era di fotografi che ne parlavano il fatto che comunque non è che una persona è brava impara uno stile ed è bravo su quello deve limitarsi a quello ma intanto non è sbagliato magari cambiare stile nel tempo tipo in un periodo della tua crescita fotografica ti dedichi il ritratto e lo approfondisci dopodiché magari cominci ad approfondire la paesaggistica butto delle cose a caso e allo stesso tempo quando uno magari affronta un tema che è molto distante da quello che aveva iniziato prima tipo aveva iniziato con la ritrattistica poi fa per molti anni la paesaggistica a volte per ritornare a fare la ritrattistica bisogna tornare a studiare nuovamente non è che perché uno l'ha imparata dopo se la porta via quindi c'era anche questa cosa interessante quindi che non è sbagliato né cambiare magari nell'arco della nostra crescita fotografica gli stili e allo stesso tempo però bisogna ricordare che una volta imparato un qualcosa magari Giulio adesso si studia la ritrattistica diventa bravo diventi bravo in ritrattistica non è che dopo tu cambi ti dai alla street per altri 5-6 anni e dopo riprendi mano in ritratto e sei subito tac bravo come eri prima al solito bisogna ricominciare a studiare e tu Daniele che avevi qual è il tuo ti hai rimesso un obiettivo sì che non ho fatto è la seconda volta però ho sbaglio no la prima la prima il tuo corso lo sto facendo Alessio bravo allora avevo detto che sarei andato a RomX a fare un po' di foto di ritratti di cosplay con gli obiettivi a messa a fuoco manuale quindi sicuramente il 50 mm 1.7 che uso con adattatore perché viene dal corretto Pentax e forse se avevo la forza avrei portato anche il 300 mm così ma giusto per tirarlo fuori però c'è stato un piccolo problema il RomX quest'anno aveva il numero chiuso eh l'avevo visto non solo hanno bloccato a un certo punto la vendita dei biglietti perché non c'era un conto dicendo guarda mancano 30 posti 20 posti hanno un certo punto improvvisamente bloccato la vendita perché era giunto il limite tra l'altro che è andato lì giovedì e venerdì io avrei preso il biglietto per sabato che è andato giovedì e venerdì ha detto che tutte quante le zone dove solitamente si fanno le fotografie che sono la zona del prato la zona degli specchi insomma posti aperti che stanno all'aperto erano state tutte quante ricentate quindi avere un un posto con il numero chiuso per di più con delle zone ampie all'aperto ricentate si entra col green pass e tutte quante le mascherine e tutto non ha senso secondo me chiudere le zone aperte cioè dovresti limitare le zone chiuse non quelle aperte però morale della favola insomma non ho trovato i biglietti all'ultimo un po' comunque avevo deciso che non ero sicuro se sarei andato perché insomma vai là non hai spazio per fotografare il terreno insomma e comunque salutiamo che si sono aggiunti a noi anche Raffaele Ravaioli Chiara Viaggi Francesco è quello che ha fatto la forchetta con le briciole quando ho chiesto chi è Francesco ah capito ti ricordi la sfida con la forchetta fotografa la forchetta sì 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 ok e tu Alessio cosa hai fatto? allora io mi ero messo come obiettivo quello di fare delle uscite se non ricordo male era quello l'obiettivo e non ci sono riuscito non ci sono riuscito non per condizioni atmosferiche ma semplicemente perché nel corso d'opera ho deciso di dedicarmi altre cosette quindi vabbè spammo un pochino avevo fatto il lancio di DaVinci Resolve dal corso completo avanzato su DaVinci Resolve quindi mi sono accorto che dovevo starci un po' più dietro a quello finire delle cose le mail di presentazione un video di presentazione eccetera eccetera tutti aspetti tecnici alla fine ho detto vabbè ha la priorità quello che è l'uscita e ho preferito dedicare questa settimana della prossima a pianificare non fra le uscite ma pianificare delle uscite quindi dopo la fine magari della puntata metteremo come nuova sfida come nuovo obiettivo che mi pongo ok 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 andiamo con il prossimo siamo siamo già praticamente mi sto distruggendo alla sfida mi brucia da morire un occhio siamo allora siamo già arrivati alla sfida della prossima settimana quindi qua commenti sotto sto guardando se c'è qualcuno che commenta qualcosa nessuno parla ok allora la sfida di questa settimana dopo andremo a commentare la le foto che ci hanno mandato che sono arrivate ce ne sono parecchie è il titolo la bellezza dell'orizzonte quindi cosa significa ovviamente va fotografato un qualcosa dove c'è l'orizzonte all'interno quindi si deve percepire l'orizzonte dell'immagine ovviamente qualcuno mi dice vabbè ma io abito in montagna come faccio no si intene anche lì l'orizzonte comunque riesce a realizzare un qualcosa di valido in quel senso e vediamo cosa ci tirano fuori i nostri bravi partecipanti che dici Daniele hai detto che ci raccontavi del sì sì adesso intanto questa qui è la sfida della prossima settimana io sento tanti schiocchetti del non so se di chi è l'audio forse Giulio ci sento anch'io però anche quando disattivo il microfono li sento quindi non so se sto fermo non tocco il microfono buono sei tu Alessio eh? non è che sei tu Alessio eh può essere ma no non si attende vabbè dai allora la sfida la bellezza dell'orizzonte come si fa vi ricordiamo come si partecipa a questo a questa sfida dovete andare sul sito di Mastermind Foto Italia eh troverete tutte le informazioni nelle note qui dell'episodio o degli episodi precedenti troverete direttamente il link o troverete il link direttamente anche nel gruppo Telegram insomma si trova dove c'è il eh nostro sito dove viene pubblicata sia la possibilità di pubblicare la foto per questa sfida la bellezza dell'orizzonte foto 2000 pixel di lato maggiore formato jpeg potete fare quello che volete riguardo l'editing perché è uno sviluppo dell'immagine non è che siamo i puristi che vogliono l'immagine jpeg non modificata eccetera e non serve nemmeno impazzire per il caricamento perché quando caricate l'immagine se avete un account Dropbox vi prende già il nome dell'account Dropbox se non l'avete vi chiederà di dargli un nome quindi metterete il vostro nome e comparirà il nome sul file noi sapremo chi l'ha fatta lo vedremo adesso nella sfida che andremo nelle foto che andremo a commentare prima però eh vi vi avevo già accennato all'inizio che abbiamo ricevuto la mail del nostro amico che non mi ricordo il nome adesso vado in cerca orpolo anche buttate in archivio quindi Daniele dammi una mano anche tu come? Ferdinando Cerdiello Ferdinando Ferdinando eccolo qui ho trovata l'email non è questa Ferdinando Ferdinando non trova l'email l'ho trovata allora mi dice praticamente com'è? eh Ferdinando la settimana scorsa che non si è capito cos'era quel senso esatto lui mi scrive e ve lo dico lui non ci ascolta non è in diretta non credo sia in diretta perché mi ha detto che non ce la faceva questa sera però magari ha detto dopo ci ascolta indifferita e ci dice e ascolta cosa gli abbiamo detto lui ci dice scusa se uso questo canale mi ha contattato privatamente purtroppo non ho fatto un buon lavoro ma vorrei spiegarmi perché mi dispiace che pensiate l'abbia buttata lì senza pensarci abbastanza ora non è che pensiamo così insomma semplicemente non abbiamo capito cosa è successo quindi non riuscivamo a capire la foto insomma non è che pensiamo che la persona buttino lì le cose a caso la riga nera è stato un errore errore non me ne sono accorto e adesso ci dice quindi lì è stato un errore come avevamo inteso ho detto forse è scivolato con la pennetta grafica o qualcosa ma adesso lui mi ci spiega cosa voleva fare sulla foto quindi Daniele visualizza tutta la foto lui voleva fare questo voleva enfatizzare la goccia di acqua sulle foglie era domenica e pioveva di rotto e tutte le foglie erano bagnate ma la goccia vicina alla mia firma che sta per cadere è bella ed evidente ok quella vicina al segno presumo il significato è legato ad una celebre frase di Maria Teresa di Calcutta che quando un giornalista gli ha richiesto cosa volesse fare le rispose vorrei essere una piccola goccia di acqua pulita e ecco il mio obiettivo ho provato a metterlo in foto ma mi dispiace non esserci riuscito ho provato ho provato anche a devidenziarla a centrarla e devidenziarla con la firma e lì è uscito il segno nero praticamente stava cercando probabilmente di posizionare la firma per anche far notare l'immagine la goccia e probabilmente si è sbagliato qualcosa è venuto il segno nero e ecco questa qui è quanto ci teneva a dirci Ferdinando e vorrei fare una riflessione prima di andare a parlare delle foto Daniele che un po' è venuta fuori anche con il nostro buon Raffaele che è qui che ci ascolta che lui aveva creato quella immagine della scacchiera con il braccio che veniva fuori dal computer so che dopo lui ha spiegato che c'era tutta una storia dietro anche la posizione delle delle pedine la mossa eccetera e vorrei fare con te una riflessione Daniele e anche con te Giulio io come la vedo io ovviamente personale io trovo che quando ci sono troppe cose sulla foto cioè quando la foto ha troppe cose che devono dare un significato spesso e volentieri quel significato non arriva perché è molto chiaro nella testa di chi compone la foto però ci mette troppa roba scusa c'è il rumore del microfono per escludere le cose potresti essere tu a fare il rumore con il microfono prova mi aspetta ti muto un attimo io papapapapa ok si e se tu chi io chi no no tu Giulio adesso Giulio è muto non c'è rumore ok è Giulio Giulio continuo a sentirlo perché se lo produci te ti ritorna in cuffia adesso sei muto e non c'è rumore io adesso tolgo il muto e c'è rumore ma dove stai sei in bluetooth collegato ma scusami scusate se io muto eh no non lo sentiamo ok non si sente quindi tu quando è muto ma mica è sordo ci sente se parliamo eh è muto ma mica è sordo quindi esatto quando viene chiamato in causa entri e parli perfetto allora niente stavo dicendo appunto che quando eh magari noi abbiamo andiamo a fare la foto perché è una cosa in cui sono incappato anch'io tante volte ovvero cerco magari di mettere tanti significati nella foto che per me sono chiari però non arrivano a chi ho davanti chi guarda la foto che è un po' la sfida che deve avere ogni docente alla fine un docente che ha delle conoscenze la difficoltà non è avere le conoscenze puoi averne anche meno puoi essere anche una persona con poche conoscenze ma la vera sfida è riuscire a comunicare con le conoscenze quindi il fotografo bravo che però o il docente bravo che però non riesce a comunicare a far arrivare il messaggio vale tra virgolette meno del della persona del fotografo del docente più scarso che però quando dice quelle due cose le fa arrivare come un treno agli occhi e all'attenzione della persona che ha davanti quindi vai con questo dibattito Giulio e Daniele allora intanto dico una cosa riferita anche alla fotografia di prima ci sta che in un contesto come questo si mandano non solo le foto che riteniamo più belle ma anche quelle foto che riteniamo essere un po' più ardite giusto per capire come vengono recepite insomma io una volta feci una fotografia a un pezzo di ferro che secondo me era la foto più bella del mondo poi chiunque la vedeva diceva ma che è sta cosa ci sta però non ti rendi conto di quanto la foto a te sembra bella ma adesso torna giù l'immagino ma poi in realtà non viene capita non viene apprezzata finchè non la butti nella fossa dell'eoli quindi ci sta che in un contesto come questo che comunque è del tutto amichevole uno mette la foto sperimentale vediamo se si capisce invece tornando al discorso degli scacchi la spiegazione che aveva dato è molto interessante l'unico neo è che la capisce chi conosce molto bene gli scacchi perché lui ha fatto praticamente ecco Giulio che torna lo facciamo rientrare lui diceva che lui umano gioca con i pezzi bianchi e ha usato un'apertura antica vecchia tradizionale e invece il computer che gioca dall'altra parte ha usato una risposta più moderna più recente quindi insomma la cosa generazionale degli scacchi chi conosce gli scacchi ci sta chi non conosce gli scacchi non l'apprezza quindi questa qua è la classica foto che se tu devi far vedere insomma devi anche sapere in che contesto mandarla ha fatto benissimo a mandarla qua perché poi ecco ripeto qua si parla anche della fotografia perché poi tutto il sottotesto non va a togliere quello che era il concetto della fotografia cioè la sfida quello che avevamo chiesto a noi quello restava quindi diciamo ci siamo persi un sottostrato ma niente di più insomma tutto qua Giulio vuoi dire qualcosa? Sì scusate per l'audio che si sentirà forse un po' male però in effetti sono d'accordo con quello che avete già detto e come si è detto il troppo rischia di non rovinare una foto però di non farla apprezzare particolarmente si sa che in linea generale una foto più è semplice più arriva al cuore Raffaele è stato bravissimo nell'esprimere una sfida in effetti l'ha fatta benissimo a parer mio ma anche di altri se ci fosse stato solo il computer il messaggio sarebbe arrivato bene quel braccio fatto in post-produzione in base alla spiegazione che Raffaele ha dato ci sta da Dio perché in effetti il riferimento a quel il nano che simulava di essere un automa eccetera il riferimento ci sta però lì dovresti conoscere gli scacchi e allora ci vai a pensare a tutta la storia dietro chi è ignorante in quella materia lo vede come un elemento di disturbo yes bene adesso fate due paroline adesso io metto su la musichetta esatto e poi ci vediamo per chi ci ascolta nel podcast in versione tagliata sul commento delle foto ci risentirà direttamente alla fine quando andremo a parlare degli argomenti vari e voi invece rimanete un paio di secondi in linea che poi iniziamo col commentare le foto ed eccoci qui siamo al commento delle foto quindi Daniele ti invito a metterci sul facciamo una piccola premessa nome anche della sfida si no il nome della sfida era Fiumi e Ruscelli vicino a casa si allora facciamo una piccola una piccola premessa perché comunque ci siamo sentiti con Riccardo e Alessio e abbiamo deciso che questa è una cosa che già volevamo fare dalla stagione precedente ma non ci siamo riusciti perché siamo troppo teneri però vorremmo essere non dico più severi nel giudicare le foto ma più severi nel giudicare le foto ecco quindi oggi avremo un po' un po' più l'occhio su anche delle cose che magari fino ad adesso abbiamo lasciato passare premesso che questo comunque è un giudizio personale legato al fatto che come dice Alessio molte volte quando si va a fare un concorso fotografico prima bisogna conoscere i giudici e dopo mandare le foto qua non è un concorso fotografico perché è un modo per commentare le foto quindi insomma abbiamo pensato anche se siamo meno meno teneri noi facciamo anche un servizio in più a chi a chi ha mandato la fotografia Giulio sei pronto? eh sì perché qua adesso ci faccia anche tu adesso lui ovviamente Giulio non potrà commentare la sua foto perché per la prossima volta ci sarà qualcuno che commenterà quindi Giulio se tu tratti male qualche foto di qualcuno poi la volta successiva avrai tutti gli altri che commenteranno male la tua ti scherzo ovviamente oggi poteva arrivare il concetto degli scacchi però mi diceva lo stesso ok sì sì ma il fatto che tu abbia messo Raffaele un secondo un secondo strato di lettura è molto interessante perché rivedo è quella chicca che chi conosce apprezza ci sta no avete detto una cosa giusta prima il contesto il contesto vuol dire tutto vuol dire tutto sì che equivale anche a partecipare ai concorsi la classica foto portata per i giudici più che per il concorso è il contesto se uno conosce il contesto mi ricordo sempre un concorso che c'è stato qui dalle mie parti tempo fa e c'era questo contesto particolare tra i giudici c'era Stefano Untertiner che è un fotografo famosissimo in ambito di fotografia naturalistica with life e sapendo che c'era lui in giuria se uno gli portava la foto street lui non era una roba sua hai capito era facile incappare in una valutazione approssimativa magari viceversa chi furbo gli ha portato una foto che aveva a che fare con la natura comunque c'aveva un richiamo e lui si illuminava quando vedeva quelle foto doveva commentarle e si illuminava perché era il suo pane era la cosa che gli piaceva fare ok avanti dice che conoscendo il giudice non partecipa più eh va bene tutti a mettere le mani avanti a Biadevedaro 16 anni proprio stasera bello bello non ti crede nessuno che hai 16 anni non ti crede nessuno allora vado con la prima foto come al solito adesso mi ricordo vai vai a desktop alex il nostro alex allora facciamo iniziare giulio dai tema allora noi di solito giulio però diciamo noi guardiamo tanto l'attinenza al tema prima di tutto e dopo commentiamo la foto va bene allora parto vai dico la mia allora il tema l'ha centrato si vede chiaramente che è un fiume e che io purtroppo non lo vedo benissimo perché sono sullo schermo dell'iPhone però eh sì purtroppo ma ci sta ci sta perché adesso tante foto vengono viste sui device non lo so è importante anche quell'impatto ancora più piccolo perché siamo in chat però no va bene come composizione ci sta l'orizzonte dritto quindi a livello tecnico ci siamo hai detto che non dobbiamo essere dobbiamo essere finceri con vai purtroppo c'è troppa cozzaglia di elementi ponti palazzi alberi la cosa mi disturba un po' antenne tralicci c'è troppo in questa foto doveva essere secondo me più selettivo magari se tagliava la foto e riprendeva solo la parte del ruscelo sarebbe stata più interessante ok ok dico a quelli che si stanno ascoltando che con domani potrete vedere anche voi le foto bene belli in grande perché ci sarà il link all'interno sempre della sfida della settimana precedente la troverete nel sito avrete modo di vedere la foto quindi apprezzarla meglio di come magari la vediamo ora adesso a video su youtube però ok Giulio ha dato la sua interpretazione allora da la mia dopo va Daniele io dico che dal punto di vista ok sì il tema è stato centrato c'è fiume e ruscelli quindi il tema c'è a me piace onestamente come è stato gestito bianco e nero andando sul tecnico cioè come gestione dei neri delle luci perché è facile sempre fare dei casini anche la parte bianca in alto sì è bianca ma non è quel classico bruciato completamente bianco pugno in un occhio cioè sembra che abbia quel che non sia un bianco puro quindi mi piace quella cosa concordo con Giulio sul fatto che c'è tanta roba dentro e quindi ci si perde un po' non si capisce vista primo colpo non si riesce bene a capire ok sì è ok il ruscello sì però si scorre un po' con l'occhio lungo il ruscello che è un po' più luminoso però poi c'è tutto il resto che è un po' un po' lì insomma vai Daniele sì l'insieme della foto non è male dico la verità non piace tutta questa zona scura qui che poi tra l'altro non vedo bene perché non ho il file originale sicuramente non è un nero bruciato esatto no non è un nero assoluto ci si vede dopo guardando un po' si nota il dettaglio dentro però il fatto che sia più scuro qua e la forma tonda sembra proprio un buco sulla fotografia poi dietro ci sono i palazzi bianchi che lo enfatizzano un po' questa qua è una parte che non mi fa impazzire infatti quando dite voi c'è troppa roba sicuramente probabilmente vi riferite a a questa parte qua perché se noi andiamo a fare uno zoom come diceva prima Giulio la parte del fiume c'è e funziona ecco una cosa del genere funziona molto bene quindi sì adesso sempre considerando che tu hai due pulsanti che fa ingrandimento largo quindi uno può regolarsi un pochino certo non posso regolare la sì sì esatto esatto comunque il ponte mi piace il ponte sopra che poi taglia e coincide con la differenza bianco e nero il fumo la nebbia l'altro ponte crea un altro ambiente cioè in orizzontale va bene sul verticale che i palazzi cose giusto perché facciamo il pelo all'uovo vai avanti avanti angelo mastro giacomo che ci segue che è qui con noi c'è angelo sì angelo c'è vai giulio ma andiamo avanti giulio sempre mi piace ma andiamo avanti lui siete furbi questa a me piace le curve solitamente rendono una foto sempre molto interessante si è dimostrata abbastanza semplice nella composizione poi gli elementi belli quegli elementi ricorrenti lungo probabilmente sono agli alberi lungo un viale mi sembra che siano è interessante come foto mi piace il bianco e il nero è fatto abbastanza bene niente da dire tocca a me allora a me a primo impatto è piaciuta la composizione ok anche dal punto di vista tecnico mi parposto come è stato gestito il bianco e nero ci sono zone bruciate c'è la zona nera completamente in basso ma secondo me ci sta in questa scena non so vedo la composizione mi dà poco respiro non so se è una impressione mia questo questo fiume scolo non lo so che è così proprio preso all'interno del fotogramma mi dà un comprime un po' tanto ma non so se è un'impressione mia o se condividete anche voi vai Daniele sono d'accordo con te ho l'istinto di alzare lo sguardo di scorrere la foto per vedere qua che c'è sulla parte alta il taglio sopra mi sembra un po' troppo brutale graficamente ci sta perché probabilmente ha cercato di far unire l'angolo da una parte con l'altro graficamente c'è però quando la vedi l'istinto è quello di vedere ok ma un po' più su un po' più su che c'è quindi evidentemente il taglio andava fatto in maniera diversa e invece vada civista il nome del del fiume sì la parte sottoscura a me non fa impazzire perché ci sono le nuvole sì è vero che sono le nuvole però ecco se ci concentriamo sul ruscello sarebbe stato bello che iniziai la foto da qua in modo che si vedeva tutto il riflesso qua con sto nero come se si troncasse l'impressione mia è questa ok altra foto vai bam chiara viaggi vai giulio è tua tra l'altro diciamo che giulio ha rubato il posto a chiara perché è arrivato un minuto prima la sua foto per partecipare stasera quindi chiara avrà il dente avvelenato su quello che esatto vai attento allora no guarda che si è frezzato giulio mi sentite mi vedo funziona ok no la foto è bella classica foto senti che non parla 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 mi sentite io non lo sento adesso si adesso si adesso si una foto abbastanza classica niente di di non visto l'esecuzione è buona ha tenuto a quanto pare anche i tempi leggermente lunghi infatti il ruscello dà un leggero effetto seta per farlo è notevole il fatto che si è preso il tempo di andare là di portarsi il treppiede perché senza non ottieni facilmente un effetto del genere quindi apprezziamo lo sforzo la foto ha dei bei colori una foto classica di un ruscello niente di wow io io stavo guardando e ha visto foto intera sai che giulio non sono tanto convinto che avesse il treppiede però potrei sbagliarmi e abbiamo qui la la chiara quindi potrà dirci lei no l'impressione è mia dopo sai che io ho quelle impressioni che magari magari dopo è così perché magari c'è un particolare che non noto però mi entra l'istinto mi dice che è così però magari mi sbaglio in pieno va bene e sì a me piace dal punto di vista tecnico sempre parto dal tecnicismo sì c'è c'è lo sfoccato eccolo qua in questa foto no non avevo il treppiede vedi avevo detto io che non c'è vabbè la vedo troppo piccolo io sì sì no ma sai ma vedendola vedendola che io le vedo in risoluzione massima non è che si nota sai il micromosso c'è un po' ma non si nota però forse proprio quello il micromosso basta che ci sia leggero leggero che non lo noti tu razionalmente non lo noti ma i tuoi occhi il tuo cervello lo nota e quindi c'è un qualcosa che non ti convince e devi stare lì proprio a spulciarla per individuare dove 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 c'è magari quel micromosso che ti fa capire che non c'è il treppiede quindi probabilmente c'è qualche elemento che mi dà questa impressione però vabbè comunque a me piace dal punto di vista tecnico perché mi piace lo sfoccato del pezzettino davanti lo sfoccato dietro tutto sommato la profondità di campo che va a coprire bene la zona dello scorrimento dell'acqua eccetera però sì non ha beh l'elemento in primo piano sfoccato sì è carino perché è sfoccato ma è un pezzo totalmente di legno cioè non è niente di che non è un fiore una roccia particolare che magari crea un elemento a complemento interessante la roccia tipo quella in fondo è molto più bella ecco esattamente come stai facendo tu Daniele già facendo un taglio differente eliminando anche la parte sopra che è totalmente inutile forse si poteva dare una marcia in più a questa immagine anche in verticale magari ma sempre col taglio eliminando quella parte in più che un po' in eccesso colori difficili da gestire solitamente sta tipologia di foto io divento matto ogni volta a gestire i colori di queste scene qua quindi mi piace come è venuta fuori e tutto lì questo è il mio parere Daniele sì la parte sopra non è proprio il massimo nel senso che questa qua è una foto che è bella l'idea dell'acqua poi ho un debole per l'effetto seda quindi dove rumetti ci sta bene sempre però con i ruscelli a volte è abbastanza fedente la situazione fisica dove ritrovi di meglio non si può ottenere perché se no come dice lei cascava nell'acqua infatti uno degli attrezzi fondamentali per chi fa foto a ruscelli sono gli stivaloni per poter entrare quelli a pescatore quelli a scellare sì perché se ci fosse stato uno spostatore verso sinistra inquadrando il fiume in profondità si tagliava la parte sopra che in effetti è un po' superflua e magari si guadagnava in profondità sul fiume quindi Chiara io direi che la prossima volta ti devi vestire con gli stivaloni quelli della versione a scellare qua devi farci una foto un selfie e ci fai vedere che sei in quella tenuta ora guadagni un punto altra foto yes ragazzi questa settimana abbiamo 12 foto dobbiamo velocizzare sì vai questa richiesta vai Giulio devil è che parlando già il nome sei a rischio Giulio è che dandomi la possibilità di parlare per primo non ho il tempo di ragionare tanto sulla foto perché vorrei cercare anche io di estrarre qualche ragione facciamo il giro no dai facciamo il giro vai grazie allora ho l'impressione che l'orizzonte non sia dritto anche se non si vede sembra che ci sia una leggera pendenza verso sinistra magari il terreno questo non lo so però l'idea che mi dà è questo a volte la gestione dell'orizzonte quando non si vede proprio una linea di riferimento va fatta anche in maniera un po' paracula cioè se l'immagine sembra storta bisogna addrizzarla anche se poi nella realtà l'orizzonte sarebbe storto questo secondo me è il caso mi dà l'idea di scendere verso verso sinistra il tema è centrato la foto mi sembra un po' così un po' un po' anonima forse voleva porre l'accetto qua sulla paperella che c'è che è carina per carità però in questo caso se si prende il tutto il piccolo sparisce quindi non mi dice nulla questa fotografia cioè al di là della giustezza tecnica che comunque è giustamente messa a fuoco è ben esposta e tutto però non mi dice niente allora io io vado un po' più dritto Devil ritenta sarai più fortunato no a partire scherzi secondo me tema ok si c'è ovviamente più mi riusciò di vicino a casa però fine ti direi Devil fine là perché non ci vedo altro sulla foto anzi vedo troppo troppo dove ci sono le papperelle che si avvicina al bordo con la piccola pezzettino d'erba dall'altra parte dove ci sono le papperelle va troppo vicino al bordo non il taglio anche non riesco a a darci un significato quindi così il mio parere vai Giulio allora sì l'avete massacrato poi ma perché da poi io conosco Devil da un po' mi permetto la foto non esprime nulla di entusiasmante nulla di particolare è un elemento carino magari la papperella ma allora se era quello che voleva fotografare doveva assolutamente stringere l'inquadratura perché si perde non ti accorgi subito che c'è e si perde nel verde della vegetazione quindi la cioè è accettabile perché l'ha fatta in un fiume però non non esprime la sensazione di un fiume di un ruscello ecco il messaggio no a volte dobbiamo concentrarci anche sul messaggio e fiume ruscello poteva essere anche in senso figurato immaginiamoci di dover esprimere in senso figurato un fiume non è particolare questa foto non mi entusiasmi ok andiamo avanti prossima allora qui c'era questo qui è il nostro Febbe Bua che lui con il tempo indietro sui messaggi c'era scritto abbiate pietà ho 16 anni ok Daniele vai allora come tema secondo me ci sta perché il ruscello vicino casa quando piove se lega la strada la strada diventa un ruscello avevamo detto che valeva anche questo ci sta ci sta a me piace moltissimo il punto di vista molto basso è una cosa che a me piace sempre perché dà quella marcia in più la gestione del bianco e nero non mi dispiace anche perché lo sfocato poi fa vedere cosa c'è sullo sfondo ma mette in evidenza l'acqua che comunque ha quelle trame quei disegni quei riflessi che attenzione colpo di scena Febbe Febbe non Fede Federico Febbe abbi pazienza Febbe scusaci ora la tua foto è bellissima così abbiamo la figuraccia la foto a parte di scherzi è bella mi piace se proprio devo trovare un pelino nell'uovo no secondo me non ha troppi problemi non so qui la parte nera della macchina se è un po' troppo nera oppure no perché magari qua con la compressione Alessio tu che dici che c'è l'originale no vabbè è un bianco e nero un po' particolare che va a contrastare parecchio secondo me ci sta i neri ci sono neri però è un nero non assoluto quindi deve averci lavorato un po' o con un filtro o con le curve quello che va a smorzare un po' i neri cioè sono clipati però poi gli smorzi un pochino diventano non neri neri ma diventano leggermente un 90% neri un 99% neri non so se mi sono spiegato il concetto qual è io so in post produzione quando fai il bianco e nero tu prendi una foto la converti in bianco e nero se c'è una zona clippata in scura è nero un nero assoluto e tante volte si usa fare questa cosa sulla curva prendi lo strumento curve e sul punto del nero assoluto lo alzi un pochino non spostarlo in centro no sul bordo sulla fine lo alzi e quello lì va a schiarire leggermente il nero ma non è che ti tira fuori il dettaglio va solo a portare il nero che utilizziamo nero assoluto zero te lo porta a 5 quindi è un grigio 98% 95% così punto di vista tecnico dico io la mia o volevi finire sì no l'unica cosa è che c'è questo spruzzetto d'acqua che mi mette visto che c'è se lo centrava un po' di più però magari è stato un momento però l'insieme è buona vai Alessio allora io allora premetto una cosa Febbe che che questo qui è il tipo di bianco e nero che farei io cioè è quello che a me piace questa tipologia dove ci sono questi contrasti abbastanza forti ma allo stesso tempo i neri per l'appunto vado a smorzarli un pochino i bianchi allo stesso modo il bianco assoluto di solito lo tiro un po' giù per togliergli quel bianco assoluto e farlo diventare un grigio portarlo a 2,40 come valore massimo di bianco quindi non è un bianco assoluto quindi la tipologia quindi ovviamente se è una cosa che piace anche a me tendo a preferirla da quel punto di vista mi piace come ha gestito lo sfoccato perché non è uno sfoccato tale che non vedi nulla ma allo stesso tempo come hai detto tu Daniele è uno sfoccato che si vede vedi che c'è lo sfoccato la tensione rimane sulla parte a fuoco però riesce a vedersi anche dietro cosa c'è non è una cosa che impasta tutto quanto mi piace il tempo di scatto utilizzato non so se per fortuna o perché ha scelto questa tipologia di scatto anche la scia della macchina dietro che sta buttando sull'acqua con le ruote con la bianca con la grigia c'è sullo sfoccato vista l'immagine in grandezza ampia mi piacciono i riflessi sull'acqua come è stato gestito non mi piace il taglio che è stato fatto qui lo so che magari era brutto il tombino dove andava giù l'acqua però magari magari è buona questa magari era più buona delle foto che si poteva tirar fuori non lo so però col taglio fatto così non mi entusiasma tanto non lo so non ero non ero lì e quindi magari a Febe in mano più scatti sarebbe stato da vedere se magari qualche altro scatto ci entrava meglio vai Giulio Giulio a te non parlo smutati non ti smuti io non posso smutarti sei tu mutato ti sei mutato da solo devi cliccare su sotto c'è il tuo ritrattino con il microfonino devi cliccare da qualche parte si è scollegato e si è ricollegato e si ricollegherà va bene andiamo avanti e dopo riportiamo la foto di Febe eccola qua allora qui abbiamo Francesco punto aspetta che è tornato Giulio capovolto no eccolo qua eccolo qui Giulio il bello della diretta mi sentite ok allora velocemente perché ho fatto perdere tempo intanto sarò forse di parte perché Febe è mia nipote lasciando perdere le parentelle quando le sue foto fanno schifo glielo dico tranquillamente questa qua in particolare mi piace il bianco e nero è fatto in maniera molto pulita sono belli come dicevi anche tu i riflessi che dà l'acqua mi dà una sensazione di un bel fluido bravo esa fluidità mi ci immergerei dentro in quell'acqua lì anche se è una strada sì è vero è vero apprezzo particolarmente la diversità di fiume di genere di fiume quindi è interessante che ha deciso di scattare questo genere di foto e l'ha colto bene anche con quello zampiglio d'acqua che probabilmente è l'acqua che va nel tombino per il resto sì è una bella foto mi piace anche il taglio per me un sì va bene vai qui abbiamo Francesco Francesco vai Daniele allora diciamo che la fotografia il tema è stato centrato che c'è l'acqua Francesco ha detto a me piace non si è capito se intendeva quello di Febbe o quella sua si automota è bello controllato è se i ruscelli sono realmente vicino a casa di chi ha fatto la fotografia andiamo in fiducia qui ha fatto uno scatto con il tempo un po' lungo infatti si vede un leggero effetto sui da qua sulla cascatella l'effetto sulla cascatella è leggero e secondo me è uno dei difetti di questa fotografia cioè vedere un effetto settina così no questo qui ti sblocco subito perché questo qui non è un effetto leggero qui ci sono 20 secondi di esposizione scusami per leggero parlo graficamente che c'è sto schizzetto d'acqua non è una cascata però ha fatto bene a dare un effetto settina di questo tipo perché rende l'acqua apparentemente più trasparente perché ammorbidendo la superficie non si vedono l'increspatura e sembra trasparente quello che un po' mi lascia 20 secondi l'ho indovinata ha commentato 20 secondi sì è quello che non lo so però nell'insieme è bello il tronco è bello l'acqua è bello il fatto che ci sia qua il dislivello dove sicuramente qua scende acqua con l'effetto seta si vede poco però la parte superiore non mi fa impazzire la composizione forse abbassando il punto di vista mettendo il tronco un po' più magari in primo piano qualcosa del genere è una foto mi ok io dico che più o meno condivido quello che hai detto tu però senza girarci tanto attorno io credo la foto così vabbè te l'hai portato a casa non mi piace tanto la foto così come è fatta tuttavia se questa foto viene gestita in sviluppo cercando di enfatizzare un po' di drammaticità all'immagine con i colori con i contrasti eccetera secondo me questa immagine ha tanto potenziale Giulio se tu ti hai scollegato ho detto praticamente molto velocemente che secondo me questa foto così così come presentata vabbè a parte che il tema lo prende non dice un gran che se però venisse sviluppata dando drammaticità con i colori con i contrasti eccetera secondo me potrebbe avere una marza in più questo era quello che ho detto io vai Giulio tocca a te sì e tra l'altro mi sentite anche senza fruscio forse sì perché ho cambiato dispositivo quindi siamo a posto col microfono la foto in sé è bella cioè ci sta avrei cambiato forse la prospettiva io sono mi piace di più avere dei primi piani molto vicini e sfondi molto lontani se lui avesse avuto la possibilità di avvicinarsi magari a quel tronco e prendere la piccola cascata da un'altra prospettiva sarebbe stata più interessante in sé questa foto non è male però forse andava editato un po' meglio magari quel tocco di drammaticità come dici tu ci stava ok andiamo avanti con la prossima foto allora qui Giulio è escluso no vai avanti vai avanti questa qui Giulio è escluso dalla valutazione perché è la foto di Giulio quindi io e te ce la giochiamo Daniele e tutti gli altri che ci ascoltano potranno commentare sotto massacratemi dai vai Daniele guarda la foto di per sé ci sarebbe però c'è lo sfogato qua davanti che è palesemente un micromosso perché poi non c'è nulla di nitido all'interno della foto tralasciando il fondo il cui effetto mosso in questo modo da un effetto acquerello che non mi dispiace però il soggetto principale che sta in primo piano anche lui adesso ingrandisco un attimo giusto per vedere vedi comunque non è messo a fuoco neanche lui quindi mi dà un po' di foto sfocata ecco Alessio io la vedo beh te mi hanno portato a casa ovviamente perché si mi riesce vicino a casa ok come composizione c'è la canna il contrapposto tra la pianta alla sinistra della foto e il pescatore all'altra parte il ponte in alto eccetera anche con i colori che fanno un po' di contrasto blu il verde e l'arancio lì del del ponte la vedo più come una foto documentativa che è una che è una foto boh che ne so per la vedrei più inserita in un contesto di altre foto che vista singolarmente questo è il mio parere per chi chiedeva se è grana micromosso è un po' di tutto c'è un po' di è un fuori foto e anche c'è grana perché si vede molta molta grana specie quando vai a vedere la foto a dimensioni più ampie quindi la vedrete dopo sul sito che potete vedere un po' più in grande noterete che proprio c'è grana grana da qualche esposizione grana che vista così sui computer si nota se uno può stamparla non vede tutti quegli artefatti come si vede a monitor credo che la gente lo sappia altra foto vai eccola qua graziano vettese allora a me piace il ceruscello il tema ci sta mi piace la composizione mi piace non mi piace l'esposizione della fotografia io ho lavorato un pochino di più con la post produzione per far risaltare la casetta nel bosco per dare un verde un po' meno buio sembra buia la fotografia non lo so un paio di stop ti avrei recuperati c'è un contrasto troppo forte non tanto tra sopra e sotto che ci starebbe ma anche sotto non sembra né assolato e sopra la casa mi sembra tutta esposta però nell'insieme la composizione è buona però ecco la post produzione secondo me la può recuperare bene come ha detto un alessio rispetto all'altra ok allora a me beh sì un po' di luminosità mi manca in questa immagine io sono abituato ad avere le foto un po' più luminose si perde un po' ok sì c'è il ruscello tema portato a casa ma si perde un pochino onestamente io quando guardo l'immagine la mia attenzione cade sulla chiesetta là dietro che è molto molto carina come è piazzata nel suo ambiente lì il ruscello si perde mi piace anche il primo piano sì un pochino come è stato gestito quindi non è male in sé però a me la tensione cade lì e il ruscello lo vedo per ultimo lo vedo come un complemento alla fine la foto è questa eh il ruscello è un complemento vai Giulio sì sono d'accordo forse colpa della sottoesposizione io il ruscello nemmeno lo vedo nemmeno mi accorgo che c'era la pozza d'acqua lì quello che mi dà subito all'occhio è la chiesa eh non mi piace basta tra l'altro qua c'è un triccio di parentere che è la nipote di di Angelo aspetta qua le cose diventa beautiful al di là dell'esposizione peccato perché il potenziale ce l'aveva sì sì qui abbiamo Patrizia Rufo ah qui sono il Grand Canyon praticamente esatto è vero è allagato il Grand Canyon Lanza Lanza quella classica che si vai vai questa foto mi piace perché appena la vedi sembra un grandangolare fatto col fisciai poi dopo vedi no è proprio Lanza del fiume che è fatta così mi piace vabbè qua è bello tutto bella l'esposizione bello il cielo bello l'orizzonte dritto bella Boasseri come diceva il Marchese il Grillo bravo brava sì mi piace è una foto carina carina nel senso non carina sminuente carina è una bella foto c'ho poco da dire tutti gli elementi ci stanno non ha grossi rifetti stavo ah guarda la cosa mi diceva Marco recupero che dice è orizzonte è storto poco ma c'è c'è forse mi sono storto io sei sicuro che non è stato fatto con un fisciai veramente allora stavo guardando anche io Giulio sai cosa mi fa pensare che non sia fatto con un fisciai per il fatto che c'è poca distorsione sulle piante in primo piano in mezzo sì cioè ci vedo poche distorsioni e quindi potrebbe essere che magari sto guardando anche l'immagine ingrandita sì anche gli alberi di fondo sono dritti perfetti e non hanno la classica distorsione cioè distorsione dal raddrizzamento dopo magari ci ci sbagliamo però sì sì era l'impressione allora a me non non piace perché sono abituato con Patrizia che mi fa le foto in bianco e nero ultimamente mi manda fuori questa colori mi scombussola un po' abituati come siamo con Patrizia sì tema portato a casa dal punto di vista tecnico mi piace l'esposizione del cielo come si va a riflettere sul sul fosso qui così sul canale però basta cioè credo che attira attira un po' di interesse perché c'è quest'ansa particolare però dopo fine là non so se rischiamo di sopravvalutarla troppo o al contrario io la sto svalutando troppo perché ci vado a cercare un qualcosa che non la rende interessante vai Giulio che dire le foto di Patrizia sono sempre molto belle e questa però in particolare di bello c'ha le luci mi piacciono le luci del cielo i colori che ha però più di questo ecco è una bella foto a me personalmente mi danno fastidio gli edifici gli edifici che si vedono avrei giocato con la post-produzione e li avrei eliminati però anche se li elimini è una foto di un'anza particolare ma che non mi fa urlare di gioia vai ok eccola qua Peppe Meroa e qua torno al discorso delle esposizioni lunghe che a me piacciono da morire e qua è evidentemente un ruscello molto mosso perché altrimenti non si creava questo effetto perché l'effetto nebbia si fa con le esposizioni lunghe quando c'è la schiuma e a me è una cosa che fa impazzire tantissimo mi piace il fatto che anche il chiaro sopra che va verso lo scuro in basso il sasso grande e i sassetti piccoli c'è una bella geometria una bella esposizione bella mi piace grossi difetti non ne vedo allora io sto guardando la foto a dimensioni più ampie e credo di poter dire che è stato fatto un effetto mosso non facile da realizzare perché non è il classico metto 20 secondi 30 secondi e ti pialla tutto quanto nello stesso tempo non è lento che ti fa quel mezzo mosso che è bruttino da vedere questo qui è una via di mezzo quindi un mosso dove si vede ancora l'increspatura dell'acqua però allo stesso tempo c'è il mosso non vedi la singola onda eccetera del movimento dell'acqua quindi dal mio punto di vista mi piace specie vedendola in più in grande la foto si nota proprio questa cosa sembra quasi un dipinto che gli crea proprio con le spennellate un vapore se la vedi ancora più in grande dopo te la guarderai più in grande secondo me ti rende ancora di più vista più in grande proprio vengono fuori dei particolari in più sull'effetto micromosso e eccola adesso si comincia a notare io le vedo proprio come delle spennellate così va bene ok mi piace la disposizione dei sassi vediamo un due tre quattro cinque più o meno solitamente è la classica logica di quando sono dispari gli elementi tendono ad essere più piacevoli da vedere nella foto e alcuni sommersi sommersi sì sì parlo di quelli che ti colpiscono di più all'occhio e l'unica cosa avrei provato a contrastarla un po' di più ma magari non ci sta mia mia salentille nell'acqua sì l'effetto vai vai a me la foto piace 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 abbastanza sì la tecnica secondo me è ben utilizzata questo effetto vaporoso che dà l'acqua il bianco e nero mi piace secondo me se era più contrastato era troppo esagerata cioè mi piace perché come un effetto vapore allora è giusto che il bianco e nero rimanga soft molto poco contrastato quindi a me piace così ok ultima abbiamo il nostro Raffaele ecco la prima volta che usa un filtro ND e ora è culo bravo eccola qua andiamo vai Daniele allora il ruscello si vede c'è allora a me la foto piace piace parecchio perché dare se notiamo anche noi un qualcosa che ci accomuna vai Daniele come che ci accomuna che un punto di vista vediamo se abbiamo lo stesso parere su una cosa ok a me piace il fatto che dia profondità non ti fa venire voglia di alzare o abbassare lo sguardo abbiamo una parte sotto che dà una tonalità poi abbiamo la parte marroncina della montagna del bosco dell'autunno e tutto poi la parte più verde in fondo in più abbiamo i vari livelli di illuminazione delle montagne che insomma la foschia fa capire che stanno lontane che dà molto molto respiro questa parte in alto questa parte qua dà molto respiro alla foto a me piace piace molto non so quanto abbia lavorato di post produzione perché qua c'è questa lune bianco che comunque dove sta eccolo qua sembra naturale sembra naturale naturale ma non c'è lavorato di post produzione avrà sicuramente lavorato un po' con i contrasti e sistemato un po' i colori ma dicevo quello in fondo non è un alone ma è proprio una postia quindi bella mi piace allora a me piace onestamente piacciono come subilanzati la Contea e eccola lì brava Chiara cioè dal stesso punto di vista mio c'è questa parte in primo piano che mi cava molta mi mi arriva dentro troppo questo questa esatto la parte lì in primo piano del camminamento del percorso non so se è un sentiero qualcosa dell'argine che ne so del bordo lo vedo un po' troppo predominante essendo proprio il primo piano che è una delle prime cose che vedi in un'immagine che ti porta lontano mi lascia mi lascia un po' spiazzato stavo provando qui mentre voi parlavate a provare a fare un taglio differente cercando di eliminare un pochino non tutto un pochino della parte iniziale Giulio sì secondo me c'è paura di tagliare le foto non abbiate paura di tagliare le foto sperimentate metteteci le mani dentro alla foto perché non è peccato lavorarci che tra l'altro è già stata tagliata perché questa qui non è un 3 un rapporto 3 a 2 un 4 terzi è un 16 noni parlerebbe quasi più panoramica ci sta tutta sullo schermo per il resto come composizione mi piace tanto la foto mi dà proprio un senso di libertà come diceva Daniele i vari livelli delle montagne in fondo è fatta davvero bene cioè la natura l'ha fatta bene la luce ne parlavo ieri con Daniele sai che avevo fatto quelle due foto con la GoPro e tu mi dicevi cacchio ma cos'è ma in realtà avevo avuto culo di aver beccato una situazione luminosa bella sono venute fuori poco da fare la luce è tutto va bene allora abbiamo finito le foto adesso dobbiamo sceglierne quante facciamo una per uno poi se c'è due no almeno due dai perché sono tante adesso è vero sono tante due riesci a mettere la visualizzazione griglia così che anche Giulio riesce a vederle ricordarsi più o meno eh sì però se Giulio sta con col telefono no ma io ho già scelto me le ricordo tutte ok ne ho già scelte due ok comunque lì vedi le piccolissime anteprime giusto per farti venire in mente eh ma comunque posso zoomare quindi perfetto allora Daniele tu hai già scelto vuoi prenderti dal tempo ah io ho scelto tu hai scelto eh una sì e anche l'altra vai ok chi inizia vai 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 allora io ho scelto quella di Febbe sì e non perché mia nipote ma per la diversità del ruscello ok per aver portato qualcosa di diverso e a parte la diversità comunque anche al pubblico è piaciuta e ci sta tutto però mi è piaciuta tanto anche quella la di di Peppe di Peppe Merola ok quella mi è piaciuta tanto ok davvero molto bella però purtroppo devo sceglierne solo una due 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 dopo vediamo poi dopo allora le mie due le ho scelte Peppe Merola e Febbe Daniele lo faccio io io scelgo questa di Peppe che mi piace lo sfumare tutto e quest'altra di Raffaele ok io invece quella di Peppe sì e quella di Febbe Bua ok quindi ha vinto Peppe Peppe però secondo me a seconda Febbe quindi Febbe che aveva chiesto pietà per i suoi 16 anni alla fine si è cavata bene ci ha marciato ci ha marciato ok dai quindi domani potrete vedere anche voi le foto direttamente sul nostro sito web adesso metto la musica e ci li colleghiamo eccoci qui tornati dopo il commento delle foto e niente ragazzi parliamo un po' di tecnologia c'è qualche news che abbiamo qualche news qualche argomento che abbiamo trovato interessante e la prima le leggi tu le go io dai New Olymp no che questi qui sono sempre link che ci hanno anche segnalato sul gruppo Telegram trovate tutte le informazioni Telegram il gruppo si chiama Mastermind Foto Italia quindi basta cercare Mastermind Foto Italia e finalmente uscirà il nostro gruppo perché abbiamo cambiato il nome in modo da renderlo ricercabile e Olympus che ha patentato registrato il brevettato sì questo metodo questa funzionalità di Astro Tracker che sfrutta praticamente il movimento del sensore che può muoversi quelli stabilizzati hanno un margine di movimento per seguire per determinati gradi il movimento delle stelle anche se siamo noi che ci muoviamo ma il concetto è quello e quindi riesce a fare delle esposizioni lunghe sul cielo stellato senza incappare nelle scie delle stelle ovviamente è limitato a un certo range in base anche alla focale che vado a utilizzare eccetera però c'è questa funzionalità che era già presente sulle Pentax vero il Pentax ti garantiva anche parecchi qualche minuto di esposizione in base alla focale perché il movimento è stato con certi grandi angoli con la regola del sogento insomma esatto a che angolo vai a inquadrare cosa dici tu è una roba interessante o interessante che fa parlare ma che è inutile secondo me è utile per chi fa solo fotografia io ho sempre detto che Pentax sì esatto Angelo è un sistema simile a Pentax il problema di Pentax è che ha questa caratteristica e non la pubblicizza io una volta ho partecipato a una giornata di astrofotografia il tipo che ci spiegava come funziona l'astrofotografia non conosceva questa caratteristica della Pentax apposto ma è grave che Pentax ha una pubblicità in più sulla K3 Mark 3 ha tolto questa funzione e funziona non solo con il sentore rido ah rido per il tipo che non funziona solo con il sensore che si muove ovviamente ma perlomeno su Pentax ha bisogno del GPS che solitamente nelle versioni quelle delle macchine un po' pro è integrato quindi il GPS prende coscienza della posizione della macchina fotografica e su quella poi calcola come gestire il movimento che sono mi sembra due o tre gradi di oscillazione del sensore stabilizzato sui cinque assi io vado un po' controcorrente perché credo siano quelle funzionalità che piacciono tanto all'amatore ma dopo chi fa astrofotografia non utilizza questi strumenti ha degli strumenti appositi che gli permettono di fare delle cose sarà perché conosco uno dei principali divulgatori di astrofotografia in Italia che lui non le guarda non perché lui è ma perché anche lui ha a che fare con tanti hobbisti vanno su altri strumenti per fare queste cose non si perdono per dirti in queste cose qui chi vuole fare questa cosa queste cose le vedo bene appunto per pubblicizzare quindi è un buon metodo un buon strumento di marketing quindi cavoli andare in giro a dire noi possiamo fare questo ha un impatto bellissimo cosa che dicevi tu che Pentax non pubblicizzava però dal lato pratico è bello per fare la prova la sera sulle montagne e farla basta morta là quello che fa astrofotografia poi utilizza altre tipologie di strumenti questo come la la vedo io Giulio non so come cosa pensi sono cose che per me sono superflue vanno nel marketing esatto buone ma poi proprio l'astrofotografia anche chi lo fa di mestiere l'astrofotografo cioè però in realtà non credo esista il mestiere dell'astrofotografo no 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 intendevo il mestiere quello che è proprio appassionato no lo so ok ma anche l'appassionato magari si si prende quel tempo per crearsi il progetto di astrofotografia no e là magari per un periodo si dedica a quello ma in realtà ma quanto lo frutta non lo so non lo vedo un plus ma per me guarda allora io ti dico questo strumento questa funzionalità probabilmente sì ma tu non hai idea di cosa c'è di astrofotografia di astrofotografia in Italia fa paura sì vi metterò il link l'ho anche intervistato è un campo molto apprezzato cacchio ma sto qua sto qua fa i meeting in giro per l'Italia da quanta gente c'è che segue che fa anche corsi che fa formazione c'è un giro di appassionati che non ho l'appassionato quello ok lo faccio no proprio quelli che vanno avanti ma anche perché è molto difficile farla e quindi diventa tipo voglio fotografare la Galassia X la cioè non è che uno impara la tecnica gli strumenti giusti e va e lo tiene no no ci vogliono anche anni per uscire a portare a casa dopo la fotovolta ma magari sarebbe interessante se su queste se queste macchine possono essere collegate ad altri strumenti quindi telescopi lenti molto avanzate e allora dici sai c'ho già la macchina che in automatico mi fa mi traccia la Galassia dove voglio andare a fotografare io ecco abbinata con strumenti di un certo calibro dice ok ho la macchina che ha già queste funzioni integrate mi aiuta molto tutto qua ok giustamente Devil dice ma anche il messaggio che Olympus non si ferma ovviamente perché Olympus ha avuto un po' di stravolgimento dal punto di vista vendita eccetera quindi sì ok questo strumento per vedere è un modo per sperimentare il genere sì secondo me sì ma tra l'altro io lo userei anche in maniera ibrida cioè immaginate che ne so un ritratto o un paesaggio con le stelle belle accese con questa con questa funzione si fa non è astrofotografia propriamente detta però potrebbe essere un uso interessante esposizione di tre minuti metti il soggetto però il volto ti viene tutto mosso no perché l'illuminico il flash ah ok se ne va ho capito sì certo cioè usando un misto di tecniche oppure fotografi un cadavere sotto le stelle ma è un tema il cadavere sotto le stelle titolo del podcast di oggi il cadavere sotto le stelle allora beh avevo trovato un video di un tipo troverete troppo tutti i link nelle descrizioni dell'episodio di un tipo che si è creato uno strumento per fare il proiettore come si chiama il proiettore quello per le negativi l'ingranditore l'ingranditore in casa aveva fatto vedere come se lo creava io ho detto ecco qui vi metterò il link dopo questo video c'è lui che fa vedere cosa ha fatto è interessante perché l'ho richiamato perché la volta scorsa avevamo parlato di il Ford che aveva creato questo sistema con la tenda con tutto quanto e questo qui fa vedere come te lo puoi creare in casa praticamente un ingranditore e metterò il link ve lo guardate a me è sembrato il classico video vi faccio vedere come si fa e alla fine è talmente un accrocchio una roba particolare che si ottieni la foto non mi pare proprio una roba da 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 artigiano della domenica boh io se devo fare tutta sta roba qua vado dal Ford mi spendo le 500 euro e mi compro la la capannina che mi fanno loro cioè non vado a mettermi in piedi tutto sto baracchino per far per far vedere che dopo ho tenuto questa foto tutto lì non so se avete dato un occhio a tu Daniele al video c'è la soddisfazione comunque di fare le cose da solo capisci un po' di più come funziona la teoria che c'è dietro e tutto sì ma vedi se tu conosci già la teoria dopo se ci pensi non è nemmeno complicato farlo dopo ovviamente se non c'è la manualità per fare le cose che tutto sta lì se tu sai come funziona la logica che si vuole fare un proiettore che ti proietta che ha una lampadina da una parte e il negativo dall'altra e una lente c'è l'angelo dovevo trovare le afghan box camera eh ragazzi altra notiziola tanti parlo di capture one questa qui è più una marchetta non ci guadagniamo niente noi come marchetta però è un consiglio che lo diamo a chi magari era interessato a questo software capture one un'alternativa a lightroom tanti lo apprezzano perché magari tanti hanno l'abbonamento adobe che hanno photoshop più lightroom però alla fine utilizzano solo lightroom perché passare per photoshop non hanno voglia tanti e quindi magari valutano dei software non a pagamento mensile ma che pagano una tantum e morta là e poi decidono quando aggiornarli e capture one è uno di questi software avanzatissimo professionale quindi non stiamo parlando di software come luminar come vediamo tutti qui software che costano 50-60 euro insomma capture one è un software molto professionale stiamo parlando di un software che nella versione completa ti costa 350 cosa è che avevi visto tu daniele non mi ricordo poi avevi guardato prima il prezzo 349 349 un software molto importante però una volta che tu l'hai presa la licenza è tua e te lo usi fin tanto che vuoi però puoi aggiornarlo e loro fanno un aggiornamento all'anno la cosa interessante di capture one è che loro tipo in questo periodo che annunciano la versione del prossimo anno ti permettono di acquistare questa versione o come vogliamo vederla ti compri la nuova versione in anticipo però ti danno già la versione precedente quindi in sostanza ti becchi due licenze col prezzo di una e quindi può essere interessante per chi magari decide di ok investo quella cifra che se ci pensiamo bene un abbonamento adobe è 148 euro all'anno uno dice vabbè due anni di abbonamento adobe me lo compro la prima volta e dopo però fa gli aggiornamenti una volta ogni due anni e ogni due anni riesce ad avere tutte le versioni però perché gli danno anche la versione precedente può essere una cosa interessante altra cosa che non magari qualcuno non sa si costa tanto come impatto iniziale i famosi 300 e passa euro nella versione completa dopo hanno le versioni per sony per fuji eccetera però dopo gli aggiornamenti non è che costano 300 euro gli aggiornamenti ti costano 100 euro una roba del genere dipende un po' ti fanno lo sconto tante volte quindi una volta ogni due anni uno dice vabbè pago i 120 euro però mi danno la versione precedente più quella nuova ogni due anni mi barca meno può essere interessante se qualcuno è interessato a Capture One questo è il periodo sicuramente più indicato per valutare l'acquisto Adobe Adobe reinventa per tra virgolette reinventa per Lightroom il sistema di mascheramento anche qua Daniele se tu proietti il link c'è il link eccolo qui e scorrendo alla fine vedremo anche un video e in sostanza secondo me va un po' contrastare quello che sta facendo Capture One perché un po' si corrono dietro Adobe Lightroom e Capture One tanti non lo sanno ma su Adobe Lightroom sono stati inseriti tanti degli aggiornamenti che hanno inserito negli ultimi due anni sono stati proprio copiati pari pari da Capture One quello dell'allineamento delle linee tirando le lineette che ti riadrizza gli elementi architettonici esisteva già da anni in Capture One l'hanno proprio copiato le ruote dei colori esistono da sempre su Capture One sono andati a pigliarli e buttarli dentro anche su Lightroom adesso hanno introdotto questa cosa ecco qui vediamo il video delle maschere diciamo intelligenti automatiche e anche questa cosa esiste da un po' su Capture One non così intelligente ma che tipo tu gli dai la sagoma e lui se la prende da solo l'elemento gli clicchi il colore e lui ti fa la maschera sul colore cioè esiste già questa cosa su Capture One da un po' e niente io ho visto questa funzionalità ho visto questo video proprio che stai facendo vedere tu Daniele e io così come lo stanno facendo vedere la trovo di un macchinoso che fa paura cioè avere lo strumento che ti apre una finestrella con dei sottolivelli strumenti ulteriori che vai sul menu e devi scegliere delle opzioni hanno cercato sembra che abbiano cercato di buttare dentro una cosa che non era per Adobe Lightroom Classic e l'hanno buttata là per cercare di compensare una mancanza che aveva rispetto al suo diretto concorrente che è Capture One su Capture One è fatto molto meglio tu hai la tua immagine scegli lo strumento tipo selezione colore clicchi sul cielo ti selezione blu trasforma in maschera te la trasforma in una maschera cioè molto molto easy sì cosa dici sarebbe una funzionalità che andresti a utilizzare non so se utilizzate questi software voi io su Lightroom quando ho un problema di questo tipo piuttosto che fare la maschera beh non so se continuerei a farla ma io vado la col pennello quello di correzione cioè punti il pennello crei una sorta di maschera ma tanto il discorso è che comunque è sfumata all'esterno quindi insomma è difficile che ti trovi in situazioni per le quali il pennello non riesce a gestirlo bene cioè ti crei tu la sagometta dove lavorare le illuminazioni nella zona circoscritta senza anzi secondo me la maschera aggiunge una separazione netta che rende un po' più artificiosa la foto nel senso che se tu hai delle sfumature troppo netta troppo netta con le sfumature più morbide non ho mai avuto questa esigenza anche perché quelle pochissime volte che mi serviva una maschera grossa o particolarmente definita vado su Photoshop e la faccio tanto quanto una manciata di volte mi sarà successo tu Giulio com'è che fai l'editing vabbè io ho tantissimo da imparare ancora sull'editing io ho comprato appunto pago l'elaboramento per Adobe perché mi serve Photoshop per un lavoro di mia moglie abbiamo bisogno di ingrandire delle foto e Photoshop lo fa in maniera molto però io più di quello ecco non è che so fare a volte mi metto lì per le mie foto non ho provo a sperimentare però è un mondo cioè o fai una scuola o fai dei corsi ma di tante ore perché ha troppe funzioni infatti in un anno certe funzioni le hanno inventate loro e quindi le hanno rese in maniera molto semplice perché loro sanno il funzionamento allora te l'hanno reso semplice chi deve copiarle deve far finta che non le ha copiate allora è vero è vero è vero anche questa allora cosa fa si inventa un suo menu che però va a peggiorare quella funzione perché non è più fluido come ad esempio ha fatto Doctor One guarda lo dico io che faccio il corso su Affinity Photo quando hanno iniziato con Affinity Photo erano incappati proprio in quella situazione lì che era palese che stavano facendo un software che era una copia di Photoshop però non potevano farlo uguale e quindi il sistema di livelli l'hanno cambiato io non ti dico e infatti è quello che fa impazzire tutte le persone che da Photoshop passano da Affinity Photo dicono cacchio è praticamente uguale cioè fai tutte le stesse cose e poi quando arrivano a gestire più livelli e le maschere boom cioè lì vanno in panico perché hanno un loro modo di funzionare efficace secondo me più efficace di come è su Photoshop ma Photoshop è diventato talmente uno standard anche mentalmente le persone a lavorare con quel metodo che andarsi che passi all'altra parte e vai via di testa e secondo me non l'hanno fatto perché volevano rivoluzionare il metodo di creare di gestire i livelli perché alla fine il tempo che perdi è quello utilizzare un metodo o l'altro non è che stai prima o che sia meglio però è diverso e loro secondo me l'hanno fatto perché dovevano diversificarsi se no dicevano ok è una copia di Photoshop e magari dal punto di vista dell'immagine perdeva un po' di appeal di interesse adesso se non hai nulla ad aggiungere Daniele io prenderei questa bella foglio punto ink che l'aveva portato se non mi ricordo Angelo può essere che Angelo l'aveva messo non ricordo più o qualcun altro che poi praticamente è questo servizio che ti permette di creare delle le ragioni le penso in inglese non riesco a tradurle in italiano delle portfolio esatto gratuitamente senza la necessità di un login quindi non devi farti un account niente tu prendi ti butti le foto lì ti crea il tuo bel portfolio e poi giragliero con un bel link alle persone che vuoi tu gratuito allora vediamo interroghiamo Giulio cosa succede cosa vuol dire quando una cosa è gratuita non è mai gratuito vuol dire che la paghiamo significa che il prodotto sei tu esatto a parte che qua stavo leggendo che ogni galleria è limitata a 50 immagini e scade dopo 90 giorni ok può starci per certi usi ma c'è una cosa molto più importante da stare attenti secondo me e la trovate sulle condizioni e questo qui è un po' un monitor per tutti cioè quando troviamo questi servizi tanto gratis tanta roba gratis tralacciamo a parte servizi tipo che ne so oh dio Dropbox oppure qua è l'altro servizio che fa le stesse cose di Dropbox quello di condividere i file non mi viene il nome quello più utilizzato WeTransfer WeTransfer esatto anche quelli sono gratuiti però hanno un modello di business che si basa con è gratuito perché vogliamo farti venire la voglia di fare l'abbonamento a quello a pagamento quindi ti diamo l'assaggio per poi portarti andare sul sistema quello più professionale che mi paghi che funziona meglio eccetera eccetera invece questo qui è gratuito basta se poi vai a leggerti le condizioni e c'è purtroppo delle condizioni sull'utilizzo delle foto ovvero che tu concedi sostanzialmente tutti i diritti a loro di utilizzare le foto anche per usi commerciali qua c'è our own nostri esatto dopo va avanti anche lo specifica lo ribadisce molto bene e quindi dico sempre il concetto perché ho messo questo questo lì questa notizia perché tante volte troviamo questi servizi gratuiti ma dobbiamo capire le differenze tra una tipologia di prodotto gratuito e l'altro il prodotto appunto che dicevo prima il WeTransfer che ti dà la possibilità di fare delle cose gratuitamente però se vai a vederti le condizioni non è che loro si tengono i file che tu gli dai semplicemente loro ti danno quello e tu mettendogli la mail eccetera dopo vedi che ti arrivano le mail pubblicitarie che ti dicono vieni sul sistema vai acquista il WeTransfer Pro che ti diamo 200 giga di spazio puoi salvare i link puoi mettere i link a scadenza puoi salvarti i link salvare i file e tenerli lì quindi non devi ogni volta ricaricarli se devi mandarli a più persone quindi loro ti invogliano dopo andare su un sistema a pagamento stessa cosa Dropbox ti dà il contentino gratuito perché guarda che se viene sulla versione a pagamento hai questa funzione cercano sempre di portarti invece ci sono altri servizi che sono totalmente gratuiti e lì bisogna stare attenti e a me se ci sono servizi totalmente gratuiti che però hanno delle condizioni ad esempio unsplash però loro sono chiari fino all'inizio se tu arrivi sulla loro pagina e loro ti dicono carica le foto gratuitamente attenzione però guarda che le carichi licenza cc0 cioè le foto è chiaro come una casa e quando carichi una foto te lo ridice nuovamente sai che le foto ti avverte perché loro hanno quella politica loro avevano quel progetto che anche lì unsplash il loro progetto era di fare una cosa che poi hanno rivenduto a GetImage che è il proprietario dei stock photo quindi ho sempre detto i unsplash è bello ma avevano un progetto in mente che erano quello di fare un qualcosa da poi rivendere da fare un exit per prendersi dei soldi loro vabbè come sviluppatori però perlomeno è un servizio gratuito che però ti mette subito in chiaro le cose come stanno invece qui erano un po' nascoste dove andare a leggerti le condizioni su foglio.inc per leggere che quindi bisogna stare attento un pochino ci sono delle domande sì mi sapete consigliare un drop scusa ma ti sapreste consigliare un drop box per caricare le foto Amazon mi piace allora io utilizzo drop box per caricare le foto drop box è una bella cosa che ha tanti strumenti che sono perfetti per chi deve lavorare in team e per chi deve condividere tanto ad esempio io utilizzo tantissimo drop box perché riesco a condividere tanti materiali che io ho dentro drop box tipo tutti i miei corsi ma potrebbe essere benissimo anche delle gallerie fotografiche per un professionista che puoi fare i link che mettendo i link puoi mandare i link che possono vedere ma non scaricare le foto puoi mandargli i link a scadenza puoi mandargli i link che possono vedere solo con la password ci sono tante possibilità che sono utili per chi deve condividere per sola gestione foto si può funzionare ho anche un articolo sul mio blog dove parlo di tanti metodi per archiviare di fatto online è uno dei più costosi drop box perché costicchia però se ti guardi in giro non ci sono tante altre alternative l'unica di buona buona è esatto c'è il google drive che si chiama google one mi pare nella versione nuova che si chiama adesso che con un piano da non mi ricordo quanti tera comunque ha un costo interessante però anche lì va bene per mettere file quando si comincia ad andare in condivisione cose è un po' più scomodo però funziona cioè ma casomai metteremo il link al mio articolo dove ho proprio fatto delle tabelle con i prezzi per capire se tu devi caricare un tera forse ti conviene questo perché c'è anche adobe portfolio ad esempio o comunque tutto l'ambiente adobe se tu vai con l'abbonamento che noi abbiamo quello da 12 euro al mese comunque c'è già un determinato numero di giga disponibili 20 giga se tu compri il pacco da un tera o da due tera dopo hanno dei prezzi che vanno su in base a quanti tera vuoi quindi crescita è limitata in base a che hai bisogno carichi anche quello non è male come prezzo ovvio che sei un po' legato dopo ad adobe perché una volta che cominci ad avere un archivio di tot mi la foto ragazzi togli anche perché dopo è tutto un cane che si morde la coda perché se tu hai tutto l'archivio fotografico lì su adobe e allora tanto vale che utilizzi lightroom cloud e quando io devo modificare una foto lui si piglia la foto dal cloud quindi non devo nemmeno caricarla la modifico con tutti gli strumenti che mi dà adobe lightroom cloud che sono gli stessi adobe lightroom classic e quindi ti abitui a lavorare con gli strumenti adobe certo ok ultima pickle shift pixel shift e foveo qui si va un argomento un po' più ampio Daniele e va bene io non metterei il link al video del dei nostri colleghi perché a fine se si mettono dopo si vanno a far confronti non è mai bello dopo far confronti con colleghi che hanno dei pareri io direi di rimanere sul concetto di foveon e qualità fotografica tu hai rimasto impressionato da cosa Daniele praticamente fa vedere il pixel shift fatto da due diverse macchine fotografiche cosa è il pixel shift così lo spieghiamo a chi non lo sa il pixel shift è un movimento che fa il sensore allora sappiamo che i sensori quelli classici che il bike con la matrice bike prendono un colore ogni tot perché ovviamente ogni pixel ha un solo colore dei tre quindi RGB si muove il sensore nelle quattro direzioni a volte in cinque direzioni insomma a seconda di come è progettato per fare in modo che ogni singolo pixel prenda il suo colore quindi di fatto aumentiamo la risoluzione della fotografia aumentiamo in teoria anche la gamma dinamica perché ci sono più colori che vanno dentro però non è questo il punto perché qua poi sul video si parla dell'effettiva efficacia la cosa che a me ha sbalordito è che confrontare le fotografie con e senza pixel shift tra cos'è una era una G9 Sì ok non mi ricordo qual era la 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 ma cambia poco perché è sempre un sensore c'è anche la 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 Olympus che fa la stessa cosa cioè il concetto base è il sensore con matrice Bayer e il sensore Foveon dove là ogni singolo pixel già di suo prende i tre colori a seconda di come la luce colpisce e io ho visto che la gamma dinamica e anche la come si dice la definizione è nettamente superiore quindi mi sono chiesto come mai un sensore così bello potente sta su una macchina fotografica Sigma che voglio dire vende forse pure meno delle Pentax che Sigma è famosa per i corpi macchina eh là ti avevo risposto in privato ma è giusto anche parlarne pubblicamente alla fine io ho avuto una Sigma con sensore Foveon e come dici tu sono il sensore Foveon è forse quello che si avvicina di più a quello che faceva un negativo perché ha il sensore con i tre strati registra ogni pixel riesce a registrare i tre i tre canali e quindi hai primo una definizione assurda a parità di pixel cioè un sensore bayern da 12 megapixel effettivi sono butto numeri a caso perché non ho mai fatto il conteggio sono sei effettivamente e che altri sono inventati perché uno prende il verde l'altro prende il rosso e poi le mescono quindi le le inventano invece un un Foveon è lui hai sei megapixel sono sei megapixel reali cioè non inventa nulla sono sei megapixel dove ogni pixel ha tutte e tre le informazioni di colore stupendo ti dà delle fedeltà cromatiche non so se qualcuno se Giulio è appassionato della della corrispondenza dei colori digitali con quello che vedi in realtà non so ci sono tanti che hanno di solito il digitale ha questo problema che i rossi te li sbara te li sballa completamente hanno questa tendenza i sensori digitali poi dopo l'X-Trans sì e invece il sensore Foveon lui cacchio fotografi una rosa sotto il sole illuminata del sole ti viene fuori come la vedi è una roba assurda bellissimo come dici tu Daniele dettaglio e l'abbiamo capito perché fedeltà nei colori l'abbiamo capito perché non deve inventare i colori ma sono reali quindi riesce ad avere un bilanciamento molto più azzeccato secondo me ha anche una migliore dinamicità anche come dinamica all'interno di luce di luminosità il problema è che questo brevetto c'è in mano Sigma che se l'è comprata lei il brevetto e come ti ho detto secondo me non ha la capacità di poter sviluppare quel sensore quindi oppure è capace di sviluppare quel sensore ma non ha la forza per sviluppare delle macchine competitive per far andare quel sensore quindi come avere il motore di una Ferrari ma non essere in grado di creare la carrozzeria per quel motore ed è un gran 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 peccato se sei stoppato con il progetto mi sembra cioè loro si hanno fatto sti modelli ma sono più per questi puristi del bianco e nero perché ti fa dei bei bianco e neri perché strepitosi non è influenzato da dominanti eccetera però hanno le macchine che sono lentissime autofocus inesistente praticamente o comunque scarso molto scarso lente molto lente queste macchine autonomie scarse a confronto con tutti gli altri e sembrerebbe e parerebbe si dice che Canon abbia brevettato una tecnologia molto simile a Foveo e ce l'abbia lì nel cassetto dopo non si sa così e questo è il mio la mia affermazione parlava di X-Trans Marco quella lì è un'altra cosa semplicemente una sempre tecnologia Bayern però rivista secondo me comunque sono sempre tecnologie che forse parliamo poi nell'ambito della fotocamera ma chissà poi per quali altri ambiti vengono utilizzati perché parlare dei puristi della fotografia è un investimento troppo grande per una nicchia così piccola ritorniamo in quelle funzioni in quelle tecnologie che non c'è il bisogno di una tale cosa il bisogno lo sente un purista è quello che si lamenta perché la foto non rende bravo giusto vado a fotografare un tramonto ma la foto non rende invece con questa è colpa della macchina è colpa della macchina se ho il fovi invece mi riesce bene quindi sono belle cose è bello vedere che la tecnologia va sempre avanti si trovano nuove cose però chissà in quali altri campi che forse non hanno a che fare con le macchine fotografiche si vanno ad applicare hai detto una cosa giusta perché alla fine perché tanti rimangono stupefatti io per primo quando avevo utilizzato sta macchinetta col fovi cacchio ora che foto mi spara fuori sta qua facile a lavorare i colori sono facili a gestire tutto ma perché non ha avuto successo sì ma in realtà è anche quello che dici tu cioè alla fine il buyer va bene quello più diffuso la gente si è abituata anche a lavorare con questa tipologia di sensori quindi non ha senso star lì anche per una casa star lì a romperci le scatole di reinventare un sensore anche perché dopo pensa che problema dietro se domani Canon o Sony dicono veniamo fuori col foveon noi adobe che tutti i software che non sono in grado di leggere quella tipologia non sono in grado di demo non mi viene il termine demo esatto quella tipologia di informazioni che ti genera quella quella macchina il raw di quella macchina tant'è che se tu ti prendi una sigma ti danno in dotazione come una volta il loro software che serve a demo e niente non mi viene esatto a leggere e praticamente gestire il file raw di quelle macchine e da lì se vuoi te lo trasformi in jpeg o in dng dopo loro portano con un formato compatibile altrimenti lo lavori con il loro software che ti dà quelle tre funzioni contrasto saturazione ovviamente per tirare fuori il meglio dal raw e così insomma ok io saluto ignazio che ci ha raggiunto anche sul finire però ciao ignazio esatto e niente dai andiamo a concludere con la polemica della settimana ah beh polemica allora te lo dico a te Giulio è capitato fate come non so se tu eri nel mio gruppo e hai visto questa storia che ero fuori sul mio gruppo non su quello di mastermind che avevo parlato con un partecipante che avevo fatto vedere un video di di un ragazzo un fotografo americano credo sia o scozzese non ricordo che praticamente lui faceva street photography e per carità sono il primo a dirlo tra virgolette street photography perché lui prendeva si metteva una gopro qui sul petto e faceva vedere per strada che con lo smartphone con la videocamera faceva tanta fotografia street da lì a chiamarla street photography ok sono d'accordo che la persona mi ha fatto un'osservazione dicendomi vabbè non è che sia proprio street photography perché lui la vede come una cosa un po' più ricercata del prendere e andare per strada a far foto così a caso ma a parte questo aspetto il discorso si era concentrato sul fatto che lui diceva la fotografia street dei canoni da seguire e io o meglio non sono io che l'ho proprio contraddetto ma neanche non ero d'accordo con il suo punto di vista ma non perché io sono convinto che sia sbagliato metterci in testa dei canoni io sono sempre stato il primo a dirci che per imparare dobbiamo metterci in testa dei paletti seguire di questi canoni tipo esempio il primo che mi viene in mente è che per la fotografia street nulla vieta di cambiare la tipologia di inquadratura ma dal punto di vista un canone è di farlo in orizzontale inquadratura orizzontale quello o il primo che mi viene in mente e vabbè dopo aver detto altri due tre anche dal punto di vista compositivo eccetera aveva dato delle regole del contrapposto eccetera però il mio concetto era quello che ho detto io non la vedo tanto non ero tanto d'accordo per due cose primo perché credo che i canoni ho buttato in modo molto più semplicistico mettersi delle regole in testa può andar bene per imparare quindi uno che deve imparare deve avere dei paletti da seguire però una volta che ha imparato ad avere il coraggio anche di sperimentare l'ha detto anche tu Giulio in certe volte sperimentare provare azzardare e cercare di vedere se si riesce a creare qualcosa di differente quindi togliersi dalla testa il concetto di quello il canone devo stare dentro a quel metodo dall'altra perché io ho parlato con dei fotografi molto più non è neanche bello dirgli nomi sono dei fotografi internazionali che uno allo studio qui a due passi da me è un fotografo che lavora per Chanel fa delle gallerie a Parigi ha fatto le gallerie a New York ha lavorato per Laika insomma non il primo Pirla che arriva che è il classico artista lui lavora facendo fotografia di un certo livello e per sì soprattutto non fotografia commerciale ma lavora per gallerie veramente importanti e quella volta che gli ho chiesto ma tu che hai fatto questi libri quando hai fatto tutto il tuo progetto aveva fatto il progetto fotografico fino a realizzare un libro l'hai studiato pensando al formato del libro la sua risposta no cioè lui ha studiato la foto ha fatto la foto e poi quando andava a comporre il libro la riadattava al contesto nel quale doveva essere inserito il suo progetto ha fatto se domani cambia il il formato il supporto io rilavoro le immagini e le adatto a quel però la foto non è che deve seguire un canone perché deve stare dentro lì è rimasto veramente anche un po' scioccato quando gli ho detto ma hai scelto no no cioè lui prima fa la foto e dopo la adatta in fase di lavorazione a dove dovrà essere messa e quindi niente questa era come si chiama un po' il dibattito che abbiamo fatto io a questa persona lui è rimasto convinto della sua cosa io sono rimasto un po' perplesso perché ha detto boh io credo più nelle parole cioè mi da mi no mi ha dato più fiducia nel senso mi ha colpito di più quanto mi ha dato questo fotografo un po' che ne sapeva qualcosa ma non era solo lui anche altri mi hanno fatto questi ragionamenti simili tipo beh cosa sono queste regole questi formati cioè le vediamo più noi come amatori che loro come persone che fanno fotografia certo e vorrei sentire giusto anche parlarne con voi e sentire il io penso che la fotografia vada trattata un po' come la musica la musica ha dei macro generi ma poi all'interno grazie a chi osa si creano altri generi musicali no e altre sfaccettature quindi nella fotografia bisogna sempre provare e trovare nuovi spunti nuove non ha per forza dei canoni fissi che vanno rispettati che se non li rispetti poi cosa succede succede che sei provato al massimo la foto fa schifo capirai cosa hai sbagliato imparerai riguardo la street photography è un genere molto particolare se parliamo di macro genere la street photography non ti dà quasi il tempo di pensare perché la street photography pura devi essere lì cogliere l'attimo però non coglierlo a caso in realtà la street photography quella bella sai già cosa anche se non sai cosa accadrà sai già cosa vuoi catturare è quella la particolare della street photography non apprezzo particolarmente andare in giro con una gopro o un cellulare e catturare continuamente immagini perché lì poi ci sta di mezzo la fortuna hai catturato la bella foto ma me la sapresti rifare è quello il discorso mi sapresti fare un progetto tutto in quel modo se ce la fai allora vuol dire che hai la tua tecnica e sai cosa vuoi andare a catturare ma la cosa stessa di scattare tante 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 foto e trovare quella bella non aiuta il fotografo a sviluppare il proprio stile questo è quello che penso Daniele allora andando sul discorso dei canoni io ho il dente un po' avverenato perché siamo sempre al punto iniziale quando quando io presento una fotografia a un concorso a un editore o a un cliente il giudizio è legato alla fotografia che viene presentata nessuno mi chiede che macchina fotografica ho usato che tecnico ho usato ma che genere è questa fotografia quanti scatti hai fatto per ottenerla la foto è questa ti piace? sì è tua in più sulla street photography ci sono quelli che dicono che non esiste perché comunque la fotografia tipo Marco la street non esiste esatto l'ha detto Marco ma lo dicono anche altre persone ci sta come pensiero ci sta non è che nego però il concetto base è che esiste o non esiste è sempre fotografia sono d'accordo c'è un fotografo di street photography svizzero che si chiama Thomas Leutard che io fa delle ottime foto ma odio visceralmente quando lui parla di teoria della street photography lui è uno di quelli che dice che la street photography va fatta con le palle perché devi andare a 3 cm dal soggetto e sparare e fargli la foto in faccia non devi avere paura vai davanti sono 300 mm per fare la street perché di fatto non voglio contaminare la scena che sto vedendo mi metto per non volerla contaminare non è più street perché non sto con 14 mm in bocca a quella che mangi al panino scusa se ti interrompi il discorso è questo quella fa parte del macro genere street photography ma quello sarà il suo stile e lui diventerà riconoscibile perché va a 3 cm dalla sua faccia almeno riesce a distinguersi ma quello non è cioè si è capito il concetto però si è capito no beh stavo dicendo a Daniele tu hai anche intervistato un fotografo lì da Roma tu ho è un vero perfido lui com'è che fa le foto cazzo gli caccia la macchina praticamente davanti al naso a volte a volte a volte lui dice che non bisogna temere la scena e questo è giusto perché a volte uno non fa la foto perché ha paura però anche lì scusa se ti interrompo Daniele perché mi è venuto in mente che il dibattito che io avevo avuto con questa persona nel gruppo mi diceva la foto non deve essere creata ovvero contaminata in realtà se tu guardi io lo perfido che non è l'ultimo arrivato ripeto perché dobbiamo dire sono pesi diversi se lo dico io una cosa è una cosa se viene lui a dirmi una cosa riguardo lo stesso argomento il suo è un peso maggiore del mio c'è poco da girarci attorno e non arrabbiarsi di questa cosa e lui invece vedi tante volte quando c'è la possibilità di vedere qualche backstage e lui tante volte è per strada ferma le persone e le mette lì e dite io voglio farti questa foto e le fa quindi viene meno il concetto che mi aveva detto l'altro cioè no non puoi contaminare la fermare la persona perché? è una foto cioè come se vai a vedere ci sono delle foto delle backstage di Eolo che ferma le persone e gli spiega magari cosa vuol fare e gli fa la foto che poi sono bellissime dei ritratti stupendi sì sì ma a volte è anche fare appostamento tornando all'intervista che ho fatto Eolo è bellissimo perché lui parla delle foto che fa in studio dove dice tutto deve essere misurato preparato e niente lasciato al caso poi quando parla della street photography dice è l'arte del fallimento e là vai in mare aperto e praticamente è come se volessi cacciare uno squalo con uno stuzzicadenti prendi anche la botta di culo prendi il colpo d'occhio e poi ecco prima Giulio parlava di fortuna sì ci sta la fortuna ma come dice il proverbio non ci dimentichiamo che io ho fatto una cosa sì sono fortunato ma guarda caso più ci provo più divento fortunato quindi alla fine quello che sembra fortuna è anche un esercizio di di mano occhio cioè io faccio una foto a culo caspita che bella cerco di riprodurla ci sto magari un mese a rifarla e alla fine capisco come riottenerla e magari su dieci scatti tre o quattro escono fuori così certo io non non butto niente ecco non butto niente bene bene dai direi che siamo arrivati a i gaggettini i suggerimenti della settimana che ovviamente Giulio salvo non gli bevi se non ce l'hai non fa niente no non sono preparato ok dai Daniele vai tu vai tu andiamo a concludere perorando la sua causa abbiamo raggiunto cosa le due ore ormai wow il discorso del bacio di Robert Doniso ma anche la storia del morto ammazzato o meglio o meglio se posso aiutare ho scoperto che se hai una Sony e hai un iPhone c'è l'app CamRot si scritto CamRote che funziona egregiamente molto di più ma molto di più di quella nativa di Sony ecco quindi chi ha una coppiata Sony iPhone potrebbe utilizzare quest'app per scattare da moto CamRote ah CamRote per carote famose credo di aver visto un video non il video ma ho visto la cover del video su YouTube dove si parlava di quest'app casomela mettiamo nel link allora io ho il gadget eccolo qua questo è il gadget e voilà io sono morto di fama e non ho preso l'originale che costa qualche centinaio di euro ma ho preso questo tarocco che però devo dire è fatto benissimo perché è tutto alluminio e si tratta di un non so neanche come si chiama di un ed hai comprato tu sì ma non lo so come si chiama è un accrocchetto allora per me ti ha venduto una sola sì può essere eccolo qua no scherzo eccolo qui questo qui è l'accrocchetto ovviamente può ottenere varie inclinazioni dove qua si mette la macchina fotografica e questo qua è un piano d'appoggio quindi è un ottimo treppiede se dobbiamo fare delle foto di macro di street di street di prodotto appoggiandolo direttamente sul tavolino senza dover magari mettere il cavalletto con il braccio estendibile a filo del tavolo in più può essere montato con la filettatura su treppiede possiamo alzare l'orientamento è molto molto interessante è molto comodo e questo l'ho pagato una manciata no una manciata di euro no però qualche decina di euro dove c'è la vite è estraibile ad aggancio rapido oppure devi tutte le volte avvitare la fotocamera devi avvitare ma puoi avvitarci una Swiss sopra tranquillamente ci metti la Swiss sopra è comodo io l'ho preso perché sto facendo la famosa valigetta a mano un pezzo alla volta però questo qua se devi fotografare qualcosa su un tavolo è comodissimo in più magari sotto ci metti pure le rotelle lo mandi a spasso per fare la carta ci sono cose poi ha come si dice ha livelle dappertutto ha la livella bolla sopra ha due livelline ai lati che ho nascosto perché ho chiuso ma cacchio di cane insomma c'ha un po' di robetta carina lo consiglio l'oggetto senza nome il coso di Amazon per le fotografie coso di Amazon io invece apporto cosa che non c'è nello tanto con la fotografia che è questo qui questo qui è un microfonino portatile che torna buono ok per chi fa video ovviamente torna buonissimo perché te lo metti qua e vai in giro alle batterie tu parli e dopo fai sync con il video è sempre l'audio perfetto non è che parli a due metri di distanza e non si sente niente però può tornare buono visto tanti che lo utilizzano anche per quando fanno delle uscite fotografiche anche per fare fotografia e parlano per prendersi gli appunti di posti che hanno visitato delle sensazioni che hanno avuto di cosa hanno visto che possono usare come una praticamente una sorta di memoria lo fai partire all'uscita sincronizzato con l'orario quando fai la foto più o meno becchi la stessa ora e vedi ti metti l'appunto eccetera ci sono tanti usciti dove può essere sfruttato questa cosa qui ma perché questo microfonino uno potrebbe dire ok puoi utilizzare un qualsiasi altro microfono eccetera questo qui la cosa interessante è che questo qui non serve a regolare il volume del microfono tu lo sai bene Daniele dobbiamo regolare i microfoni ogni volta quando si parla questo qui questo qui non serve tu lo accendi e parli perché registra in 16 o 32 bit ovvero ha uno spettro audio ampissimo e quindi è impossibile clipare l'audio cioè devi proprio metti qua e urlare come un animale e ora clipi l'audio l'audio praticamente eh il ruolo dell'audio e quello è comodo perché tu puoi parlare e dopo è troppo basso tu fai con gli equalizzatori lo normalizzi e ti trovi l'audio sempre perfetto e quindi quella è la comodità non hai da regolare il volume tu accendi parti e resisti è il zoom f2 costicchia però io dico se uno deve prendersi un microfono anche magari a casa che decide di fare dei video e quindi come parlo io quando faccio i video ho il microfono sotto la maglietta si prende uno di questi è morta là tra l'altro anche l'uscita quindi volendo qui faccio partire un cavo lo attacco al computer e posso usarlo per parlare su una chat di zoom eccetera parlo direttamente con il microfono quindi scusa hai detto una cosa sulla sincronizzazione cioè è esterno dalla macchina fotografica puoi non collegarla volendo tu qua fai uscire ok lo metti nella macchina fotografica e lo fai arrivare e lo fai arrivare e lo fai sincronizzare con l'orologio eh sì perché tu qua sincronizzi l'ora sincronizzi l'ora sulla cam ma dopo generalmente basta di solito io cosa che faccio anche se ho una macchina a due metri pam fa un colpo di mani e la macchina lo registra comunque il colpetto e software come DaVinci Resolve quando tu gli dai impasto col file e un video e gli fai la sincronizzazione automatica a lui gli basta veramente il tocco di mano e lui riesce a capire che è lo stesso stessa cosa e ti allinea automaticamente le tracce in un decimo di secondo ho fatto dei video dove io veramente parlavo da qua a là senza neanche battere le mani le facevo sincronizzare con DaVinci lui riusciva a beccare riusciva a avere quei riferimenti e riusciva allineare tutto lì abbiamo visto anche questi accessori per concludere Daniele promessa per la prossima settimana che obiettivo ti metti non ho obiettivi in mente fare un'uscita e fare delle fotografie ma anche forse lo street a passeggio dai Giulio una sfida tua che ti metti un obiettivo per questa settimana partecipare alla prossima sfida la mia la mia dai la metto la metto la metto devo fare un'uscita fotografica devo fotografare sto tramonto e vorrei andare qui dalla mia parte c'è un lago che dovrebbe calare giusto il sole sul lago quindi devo riuscire a beccare il giorno giusto per andare a fare questa foto se aspetto troppo dopo il sole esce dall'allineamento ideale quindi direi che per questa puntata abbiamo raggiunto la fine mettiamo su la musichetta finale e noi ci salutiamo ciao Daniele ciao Giulio ciao Giulio e ciao Riccardo e ciao ascoltatori 22 e 29 oggi abbiamo bottato il record abbiamo esagerato abbiamo scoperto che non è Riccardo perdere tempo questo è gravissimo ciao 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 Grazie.